Buonasera a tutti, vicini, lontani, lontani, vicini, come state? Speriamo che è finito il caldo, perché se no veramente è un caldo, caldo bestiale. Qui è abbastanza caldo, stiamo sudando, che dire, forse e coraggio, andiamo avanti. Vi auguro una buona serata, una grande buona cena, buon rientro lunedì a lavorare, chi rientra a lavorare, buon lavoro, buone vacanze, ancora in vacanza. Spero bene che il Covid se ne vada presto, da qui, da tutti i del mondo. Vi auguro una grande buona sera, un bacione, vi saluto, vi saluto la mia ragazza, saluto tutti, saluto voi tutti. Dina, forza, andiamo avanti. Vi voglio bene tutte e tutti. Mi raccomando, forza, fede e fiducia, andiamo avanti. A presto, ciao a tutti, saluti i miei parenti, Sant'Antonio di Nardini, del Bande, eccetera, eccetera. Vi saluto tutti, vi voglio bene. Ciao carissima Ceglia, sei sempre nei miei pensieri, oggi ti ho fatto una preghiera per te, ero in chiesa, speriamo bene che della sua mi guardi, mi preservi, mi controlli, e mi dai qualche consiglio di parlare in portoghese meglio. Un bacio, a presto. Grazie. Grazie. Grazie.